Ciao a tutti ragazzi, qui è ArchiviParl e sono finalmente qui col video per tutte quante le informazioni di zombie della stagione 2. Questo video è arrivato finalmente molto molto in ritardo, non per colpa mia in questo caso, ma semplicemente perché le ultime tre info mancanti di Firebuzz Z non erano ottenibili in nessun modo, soltanto con l'update di ieri sera, finalmente tra i Arceleris disponibili, e possiamo raccogliere tutte quante le 40 informazioni di questa Season 2. Attenzione che alcune di queste info della Season 2 in realtà si potevano già raccogliere in precedenza su Firebuzz Z, quindi se avete seguito tutti quanti i miei video fino ad adesso, dovreste avere già tipo 2-3 info della stagione 2, tutto il resto si ottiene in parte in Firebuzz Z e tutto quanto invece tipo 25 su 40 su Outbreak Epidemia. Partiamo quindi da Firebuzz Z che è la parte un pochino più rapida, come al solito uccidete diversi boss e miniboss, quindi Mimic, Mangler e qualunque altra cosa, e potranno dropparvi circa 3-4 informazioni, e stessa cosa per quanto riguarda le ricompense dalle sfide, anche lì 2-3 massimo 4 informazioni, continuate a giocare finché non vi dà più niente. Passiamo invece alle informazioni che possiamo raccogliere in giro, una è nel classico alloggi di pack, qua ne potevano raccogliere 4, quindi qua ce n'è una aggiuntiva, e in una stanza molto vicina a alloggi scienziati sotto un letto c'è un'altra informazione nuova. Con quella finalmente sbloccata e vi coi ieri sera ne abbiamo una nel centro dati, anche queste se ne potevano raccogliere tipo 8 o 9, quindi una aggiuntiva, e stessa cosa proprio qui di fianco nella zona esterna difesa roccia delle informazioni maxis, possiamo raccoglierne 2, una partita, quindi raccoglietene 1, iniziate un'altra partita, e potete raccogliere anche l'altro e avete tutte quante le informazioni di Firebuzz Z per quanto riguarda questa stagione 2. Se per caso qualcuno preferisce seguire una guida un pochino più scritta comunque con tanti riferimenti, vi ricordo che in descrizione come sempre c'è un post di Reddit con tutte quante le info ben dettagliate e ben scritte, come sempre in inglese. Passando invece a Epidemia, qua ci sono alcune cose simili, per cui come sempre completate alcune sfide per le ricompense, se ricordo bene sono due o tre informazioni, stessa cosa anche per i miniboss da uccidere, ma è molto spesso i mangler droppavano le informazioni, i documenti, dovrebbe essere circa tre o quattro. Passando invece alle cose che possiamo raccogliere, partendo dalla mappa innevata alpine, abbiamo qua la sala da bagno nella zona esterna salendo sul tetto, che bisogna fare con il paracaduto, non si può in nessun modo scalare, abbiamo qui una delle primissime informazioni, in questo caso la lattina del Jaganag vuoto. Raggiungendo la parte inferiore della discesa innevata possiamo salire su questa struttura e sopra c'è un contenitore crio-esplosione completamente vuoto, anche in questo caso da raccogliere come informazione. Rechiamoci un pochino più avanti, a fondo mappa in questa casa centrale di queste cinque c'è, al piano di sopra, sopra un letto, quello che sarebbe il cognoletto della cassa, anche questo possiamo raccoglierlo, un'altra informazione è l'ultima per questa mappa di epidemia. Passando invece alla mappa Ruka, quella nella foresta, qua abbiamo un cristallo di etirium sopra queste rocce, vi faccio vedere nella mappa dove si trova come anche tutte quante le altre informazioni, sappiate che è veramente molto difficile da vedere perché tutte le rocce sono praticamente identiche e questa zona è molto grande. Passando avanti nella zona che sarebbe recintata sopra queste specie di postazione per cecchino, c'è in un angolino il coltello di Kravchenko. Reccandoci quello che sarebbe il percorso ostacoli a centro mappa, possiamo salire su queste corte e lanciarci poi con il paro cadute. Nella parte davanti abbiamo la top del gruppo Omega. Infine possiamo recarci nel percorso ferroviario e qua lanciandosi col paracadute sopra un palo elettrico c'è la testa del manichino, un altro collezionabile. Passando all'ultima mappa a Golova, in quelle che sono le casette centrali, a centro mappa possiamo trovare in una stanza il nastro Endstation. Le stanze anche in questo caso sono praticamente tutte identiche, quindi cercate un pochino e prima o poi lo troverete. Passando invece alla chiesa, sopra una delle torri proprio in cima c'è una scimetta con i piattini. Questa è una delle prime volte, è difficile da vedere ma poi se avete capito un pochino la zona ci si arriva praticamente subito. Dopodiché nella zona carico treni sopra queste tubature abbiamo un contenitore di Ethereum che in questo caso è un pochino nascosto ma le tubature comunque sono poche e non sono tutte uguali. Infine ci sarebbe il badge di Samantha Maxis. In questo caso la mia registrazione è andata corrotta quindi purtroppo sto mettendo alcune immagini comunque è abbastanza facile capire dove si trova e dietro queste specie di recensioni fortificate c'è appunto questo badge da poter raccogliere. Tutte le altre informazioni che potrebbero mancarvi oltre queste che appunto abbiamo raccolto in giro sono tutte quante droppabili dai boss oppure dalle sfide come ricompense. Come anche altre volte potete dare un'occhiata a quella che è la sezione informazioni nel menu principale di zombie e lì alcune informazioni vi dice proprio dove vi mancano la modalità che sia far base z alla mappa o altrimenti direttamente epidemia altrimenti appunto la guida che avete in descrizione da Reddit su questo è molto molto precisa a indicare tutto quanto quello che vi manca. Per chi gioca carneficina Onslaught su PS4 o PS5 ci sono come al solito tre nuove informazioni nella mappa Apocalypse aggiunta di recente su Onslaught e come sempre possono dropparsi da i mini boss qualunque siano appunto quelli presenti in quella mappa. Qui ragazzi questo è il tutorial per tutte quante le informazioni della season 2 come sempre sono molto contento che possano aggiungere questi collezionabili presto uscirà anche il video in cui analizzerò e darò un'occhiata a tutte quante queste informazioni perché ci sono alcuni teaser o comunque alcune discussioni interessanti per quanto riguarda i luoghi futuri o come proseguirà la storia appunto più avanti l'abbiamo già fatto anche in precedenza e anche in questo caso non cambia nulla. Il video quindi si concordo è qui, spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile come ho detto più volte la guida completa in inglese è qui sotto in descrizione ci sono anche i link per i miei social tra cui Instagram, Twitch e anche il canale Discord e noi ci diamo come sempre a un prossimo video. Un abbraccio, ala!